Ben trovati in aggiornamento con le previsioni di Trebimeteo, un'edì che vede il bel tempo interessare gran parte dell'Italia. Il satellite ci mostra di fatti ampi rasserenamenti su un po' tutte le nostre regioni, qualche nebbia solo sul basso Veneto, nonché della variabilità tra Liguria e Toscana. Si sta preparando di fatti una perturbazione ad ovest sulla Francia che coinvolgerà gran parte del centro-norte in tarda serata con deboli fenomeni e domani piovaschi raggiungeranno anche il basso Tirreno con clima ventoso. Andiamo a vedere di fatti la distribuzione delle precipitazioni nelle prossime ore che vede questo sistema nuvoloso dalla Francia valicare l'area alpina con neve fin verso i mille metri di quota in serata, deboli piogge tra Lombardia, nord-est e poi domani invece si concretizzeranno questi piovaschi sul medio, basso Tirreno, Campania, Calabria-Tirrenica ma anche Lazio in mattinata e primo pomeriggio. Il clima ventoso isovare strette indice di maestrale che domani pomeriggio soffierà vivace su tutta la parte tirrenica e Sardegna. Poi cosa succederà? Perché sarà un inizio di settimana con questi rapidi sistemi nuvolosi ma per i giorni della Merla, quindi gli ultimissimi giorni di questo mese, l'anticiclone di nuovo raggiungerà le nostre regioni. Possiamo notare come questa bolla anticiclonica Maidoma dalla Spagna e dal Nord Africa raggiungerà l'Italia, quindi seconda parte di settimana nuovamente di stabilità con l'alta pressione, basso rischio di precipitazioni, ovviamente ritorneranno le nebbie in pianura padana ma con quest'alta pressione anche le temperature in aumento perché l'aria sarà temperata dal Mediterraneo, dalla penisola iberica. Insomma di nuovo l'inverno sarà assente. In maggiori dettagli scaricando però l'app di Trebi Meteo visitate gli articoli sul nostro sito web.